Seconda corsa, confronto per Puledri di due anni, sono in undici al via, uno Fragilis, due Fangio Core, tre Flashpoint Call, quattro Ferrari Play, cinque Fight Stick, sei Furbetto Jet, seconda linea, sette Felicità RG, otto Furia Capar, nove Inter KP, dieci Flashdance, trio, undici Fabres dei Greppi. Furbetto Jet il più appoggiato, numero sei Antonio Di Nardo, macchina che comincia ad accelerare. Allo stacco, veloce Flashpoint Call che conquista la testa nei confronti di Fight Stick e Furbetto Jet più a largo, che rimane all'esterno. Numero uno, Fragilis, squalificato. Per Fragilis, sarà sotto invece Ferrari Play, primi duecento in quindici e uno con Battistrada che allarga e così è libero di andare a condurre Furbetto Jet, che dopo quattrocento metri è dunque il nuovo Battistrada, dopo la scartata di Flashpoint Call che ha anche rischiato qualcosa. In seconda posizione rimane Fight Stick nei confronti di Ferrari Play, mentre all'esterno si fa luce Flashdance, trio, che dopo 648 e uno cerca l'aggancio con il leader Furbetto Jet, anche Inter Kp progredisce all'esterno, mentre lungo la corda restano Fight Stick e Ferrari Play. Più indietro Fangio Cor, Fabres dei Grepi a largo, se ne vanno i primi 800 in uno, tre e mezzo, situazione tattica invariata, Furbetto Jet in vantaggio, all'esterno si impegna Flashdance, trio, il chilometro, se ne va in uno, diciotto e nove, con parziale in quindici e quattro, ora a cinquecento dalla conclusione, cerca di venirse ne via anche Ferrari Play, ma finisce con lo sbagliare, a quattrocentocinquanta dall'arrivo, si rimette ma è rimasto attardato, intanto mantiene una lunghezza e mezzo di vantaggio Furbetto Jet nei confronti di Flashdance, trio che si è accodato in seconda posizione, davanti a Inter Kp, retta d'arrivo con in vantaggio Furbetto Jet che nel finale controlla e allunga ancora, per concludere, facile vincitore al debutto, Furbetto Jet e Antonio Di Nardo, secondo posto per Flashdance trio, al terzo dovrebbe essere ancora il numero nove, Inter Kp, che è soltanto avvicinato nel finale da Fangio Corr, uno diciassette e sette con trenta e mezzo a chiudere, bel primo piano in percorso di testa di Furbetto Jet, che sfrutta l'errore di Flashpoint Call dopo 300 metri di gara, sfila al comando e poi in percorso di testa, si afferma con estrema disinvoltura, Antonio Di Nardo dunque con Furbetto Jet, Gennaro Casillo al training per conto della scuderia Orizzonte Resort. Grazie. Grazie.